rieccoci nuovamente dopo l'installazione mentre il video precedente veniva esportato e caricato su youtube mi sono fatto un giro sul nuovo photoshop cs6 se dobbiamo subito dare un'impressione vi dico yes assolutamente yes grandi performance molto migliorato non si parla solo di un cambio del look ma veramente credo che le promesse siano state mantenute apriamo la prima immagine da dove l'apriamo vedete che nell'interfaccia qua sotto abbiamo mini bridge e timeline timeline poi il buon claudio lodi adobe guru e grande amico di total photoshop oltre che mio personale non dovrei dirlo per non compromettermi però è così ci farà prestissimo un video tutorial ad hoc per capire le nuove funzionalità in ambito video che sembrano essere veramente molto 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 interessanti mini bridge diceva adesso se lo troviamo qui ma come tutti i pannelli e delle applicazioni adobe possiamo spostarci per un momento me lo lascio qui perché non mi dispiace come posizionamento vado ad aprirmi una nuova immagine sì però mini bridge sapete che sempre collegato a bridge vero e proprio quindi vado a aprire l'icona di di bridge del nuovo bridge che vedete che mi spunta qua sotto quindi nell'installazione che abbiamo fatto prima è incluso anche bridge come al solito come nelle versioni precedenti l'adeguamento dell'interfaccia mi sembra assolutamente doveroso ci troviamo tutta una serie di cosine che qua dobbiamo ancora esplorare ma tutto sommato il cambiamento lascia anche quel giusto margine al mi è comunque familiare quindi non mi spavento vado avanti e so che comunque posso utilizzarlo da subito questo credo che sia stata una delle scelte fondamentali di adobe nel portare sì un cambiamento sì una rivoluzione per certi aspetti tecnologici ma senza in qualche maniera dovermi obbligare a rimparare tutto da capo ecco questo sicuramente no apriamo la nostra prima immagine ci doppio clicco sopra mi si apre camera raw 7.0 che riconosce lo scatto fatto dalla mia nikon d3x in cui immortalo la mia vecchia sig sig asse blood a pellicola ci faccio due interventini giusto per vedo esploro molto velocemente che per il momento qua mi sembra tutto familiare come dicevo abilito la correzione lente faccio un giro anche da queste parti per capire se è tutto come prima vedo che c'è un qualche cosa che mi ricorda l'algoritmo di pardon di lightroom che abbiamo discusso mi sembra ieri in uno degli ultimi tutorial va bene però sono ansioso di buttarmi dentro a photoshop per cui gli dico open image si open image perché l'interfaccia l'abbiamo capito dall'installazione è in inglese quindi questo ci tocca pipparci però vabbè meglio questo che niente direi il pannello dei livelli mi si rivela con un aspetto rinnovato però vedo che posso utilizzare la scorciatoia la tastiera che ho sempre utilizzato control j per duplicare il mio livello e vedo che c'è una serie di nuove funzionalità che posso accendere o spegnere in maniera molto interessante credo di aver già capito di che cosa stiamo andando a parlare posso intervenire come al solito sul mio livellino con i metodi di fusione che anche qua mi sembra che non siano sostanzialmente cambiati però vedo due o tre cosine come hard mix che in italiano però viene tradotto in un'altra maniera va bene diciamo che in questo momento è tutto piuttosto familiare faccio un tasto destro giusto per esplorare la situazione all'interno del del mio pannello dei livelli e vedo che ci sono c'è la conversione del mio livello uno smart object quindi in un oggetto avanzato vedo già la possibilità di contrassegnare con un colore particolare il mio livellino vediamo gli cambiamo colore ok bene questo ci piace perché ci permette di riconoscere al volo tutti i livelli di un certo tipo e adesso voglio farvi vedere però subito una simpatica cosina perché abbiamo detto che le performance del nostro nuovo photoshop sono migliorate da che cosa lo possiamo capire apriamoci innanzitutto sotto i filtri e qua vedete che ci sono una serie di cosine nuove adaptive wide angle che è una cosa particolarmente interessante per quanto riguarda le distorsioni delle lenti fotografiche ma non solo c'è di nuovo il filtro per la correzione lente e c'è il filtro liquify che in italiano ovviamente è il nostro buon fluidifica bene io applico delle distorsioni veramente brutali alla mia povera alla mia povera sebladdina e vado a ragionare veramente su delle modifiche che possono essere fortemente distruttive ma che se aprite il tra virgolette vecchio photoshop cs5 cs5.5 e provate a fare le stesse cose vi accorgete adesso sto veramente facendo delle cose senza senso ma giusto per far vedere quante modifiche applico e con che resa con che velocità vengono attualizzate all'interno di photoshop adesso veramente mi piange il cuore a fare quello che sto facendo però vabbè per una buona causa via ho applicato tutta una serie di distorsioni terrificanti va bene don bell ok tac applicate istantaneamente vi siete accorti non è che ho fatto un montaggio video particolare no istantaneo questo mi dà una certa soddisfazione ve lo dico con la sincera verità questo credo che sia proprio merito del nuovo engine di mercury graphic che prende tutto molto molto più performante ma andiamo avanti nell'esplorazione del nostro photoshop cs6 ci vediamo però nel prossimo video